E torniamo in studio con Storie d'Artigiani, l'Italia che produce, facendo di nuovo il punto sui temi digitali. Abbiamo parlato prima con l'avvocato Venghi di e-commerce, quindi di vendita di prodotti attraverso i portali digitali. Adesso torniamo sempre raccontandovi la storia di una nostra impresa che ha investito sulla digitalizzazione, ma prima siamo in studio con Larissa Gutz di Confartigianato, proprio per parlare del tema di queste settimane, Digital Innovation Hub. Abbiamo fatto il punto settimana scorsa con Paolo Manfredi, questa volta andiamo in più nel dettaglio. Buonasera Larissa. Buonasera a voi. Allora, innanzitutto noi abbiamo chiarito settimana scorsa con Manfredi che cosa vuol dire impresa 4.0, che cos'è l'industria 4.0, le politiche anche che ci stavano dietro. Adesso io ti chiedo, proprio nel dettaglio, quindi di entrare più nel concreto, con quelle che sono le aree di applicazione. Sì, perché si pensa spesso che la rivoluzione o comunque l'ambito 4.0 sia soltanto riferito al tema del manifatturiero, in realtà può essere applicato a tutti gli aspetti della vita di un'azienda, anche per diverse tipologie di aziende. Si applica alla produzione, si può applicare ai temi della sicurezza sul lavoro, alla logistica, agli acquisti, alla distribuzione attraverso processi di marketing e di vendita, anche ai servizi post vendita, perché ovviamente le aziende che principalmente fanno servizi e non magari un prodotto, diciamo così, finito, fisico, possono sfruttare questa possibilità anche per, diciamo, migliorare la propria parte, i propri aspetti dopo la vendita del servizio stesso. Mi vengono in mente ad esempio i manutentori, piuttosto che gli elettricisti, che in realtà forniscono un servizio, non un prodotto fisico. Nella produzione, l'applicazione corretta dei sistemi 4.0 porta a vantaggi inimmaginabili, dalle macchine collegate ad internet attraverso questi software si possono ricevere feedback direttamente da chi sta teleoperando, bisogna, si possono conoscere e capire i dati che la macchina in ambito di produzione fornisce sui prodotti, su quanti prodotti realizza in un determinato tempo. Addirittura il 4.0 può arrivare a far prevedere, a far, diciamo, utilizzare la macchina anche come strumento predittivo, quindi se il macchinario ha un problema e si sta per rompere con determinate tecnologie, tu lo puoi sapere in anticipo, puoi intervenire evitando di fermare l'intera produzione nel momento in cui ti succede, perché non l'hai previsto, si rende la produzione più flessibile, meno costosa. E secondo te sono tecnologie anche applicabili sulle micro piccole imprese? Sì, perché comunque anche le piccole imprese che investono magari in centri di controllo numerici, CNC, torni a controllo numerico, possono, diciamo così, agganciare l'acquisto del macchinario nuovo con le logiche 4.0, ricavando i dati poi direttamente dalla produzione, perché il 4.0 alla fine serve a questo, a recuperare dati dagli elementi produttivi, studiare questi dati e analizzarli per migliorare l'organizzazione interna e, diciamo così, tutto il sistema aziendale partendo dai dati che uno elabora. Certo, sì, sì, penso sia proprio questo punto e punto sul sistema della semplificazione. Perché ci sono dei programmi che si chiamano in gergo ERP, che servono proprio a questo, che estraggono dati di produzione dal macchinario e che poi l'azienda può elaborare per vedere quali sono anche le aree che si possono migliorare all'interno del ciclo produttivo, ma non soltanto questo, perché si possono applicare, diciamo, tecnologie che migliorano la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, possono essere tracciate le mansioni assegnate agli addetti, tracciati i prodotti, il percorso che fa il prodotto all'interno dell'azienda, si possono far indossare ai lavoratori dei dispositivi di sicurezza indossabili, come se fossero dei vestiti. Mi dicevi prima, dietro le quinte, la tecnologia con l'antitaccheggio. Sì, 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 l'antitaccheggio sicuramente ormai è anche abbastanza introdotta banalmente, quelle etichette che si trovano all'interno delle nostre borse, quelle che compriamo nei centri commerciali piuttosto che che suonano se non te le allenano in tempo, sono tutte tecnologie che vanno a tracciare il prodotto anche da un punto di vista della sicurezza, dei furti, di questi aspetti così, diciamo, applicato. L'applicazione può essere anche legata al tema della logistica e quindi software che analizzano i dati raccolti durante tutta la catena produttiva fino alla loro consegna, distribuzione, marketing e vendite, perché comunque poi tutto questo serve anche per chi fa magari più i servizi a migliorare la relazione con il cliente e con la catena di distribuzione, con i fornitori, diciamo che i famosi CRM, programmi software, che elaborano le relazioni con la clientela, partendo dal fatto che l'azienda inserisce all'interno di questi software, tutti i dati dei propri clienti, tutti i dati relativi ai loro fornitori con le indicazioni più scendi in profondità e più comunque hai la certezza di cosa vuole il tuo cliente, di come lo vuole e di come tu puoi arrivare a servirlo in una maniera, diciamo così, ottimale. La stessa cosa vale nei servizi post vendita. Evitare comunque che i macchinari si rompano e saperlo prima che questo accada produce dei notevoli vantaggi dal punto di vista economico, risparmio di ore di lavoro, produttivi e anche di ritardi nella consegna eventualmente dei prodotti, perché comunque si riesce ad intervenire molto prima. E tu mi hai parlato appunto del tema dei clienti e quindi di una relazione che si va a stringere poi tra il produttore, quindi chi presenta il proprio prodotto e i clienti e noi abbiamo avuto, e la lanciamo adesso con te, proprio il racconto, la testimonianza di Umberto Vimercati, che ha realizzato nel 2018, grazie a una startup, proprio uno showroom virtuale per presentare quali che sono i suoi prodotti. Quindi io lancio il servizio con te e ovviamente ti ringrazio per essere stata qui con noi e per averci spiegato un pochino meglio e nel dettaglio appunto aree di applicazioni e anche tutte queste tecnologie abilitanti. Ti ringrazio Larissa. Grazie, a voi. Specializzata nella produzione di mobili classici made in Italy, Vimercati è un'azienda nata da una lunga tradizione artigianale nella lavorazione del legno e in particolare proprio nella realizzazione di mobili classici, derivati dagli stili in voga in Italia e nei paesi europei, prendendo diretta ispirazione dai più eleganti e lussuosi stili classici. Caratteristica proprio della produzione di mobili Vimercati è l'attenzione ai dettagli e alle finiture. I mobili classici Vimercati offrono a una clientela internazionale a redi completi, per camera da letto, soggiorni, cucine e studi, ma anche mobili singoli e pezzi unici che spacciano tra i diversi stili. Nel 2018 la nuova avventura dell'azienda, uno showroom virtuale che permette ai clienti di tutto il mondo di vedere i prodotti dell'azienda Brianzola. A parlarcene è proprio il titolare, Umberto Vimercati. Buongiorno, sono Vimercati Umberto, rappresento la terza generazione della Vimercati Made Alachory Furniture. Siamo un'azienda specializzata nella produzione su misura di arredi stile classico e contemporaneo. L'azienda da sempre è orientata ai mercati esteri con un prodotto high-end apprezzato per la qualità e l'unicità della lavorazione manuale da noi realizzate. La digitalizzazione ha avuto un importante impatto sulla nostra azienda, soprattutto permettendo di ripresentare in modo professionale e realistico i nostri lavori attraverso le nuove tecnologie, scansione 3D, renderi fotorealistici ai clienti presenti di tutto il mondo. Nel 2018 abbiamo realizzato con lo supporto di una start-up innovativa un vero e proprio showroom virtuale che è la scansione del nostro showroom fisico che permette ai clienti di tutto il mondo di visitare pienamente l'esperienza di una visita tra i nostri prodotti. specialmente in questo periodo dove purtroppo siamo costretti a non avere contatti con le persone che arrivano dall'estero il cliente è maggiormente supportato nella visione anche dei nuovi prodotti. La stessa tecnologia inoltre viene utilizzata per la realizzazione di render fotorealistici relativi ai progetti su misura che i clienti ci chiedono e che rendono molto più efficace la presentazione del prodotto facilitando anche in modo importante i processi commerciali con clienti internazionali. E chiudiamo l'appuntamento di questa sera dell'Italia che produce storie di artigiani in compagnia del nostro presidente Giovanni Barzaghi. Buonasera e bentornato. Buonasera a tutti voi e bentornati. Abbiamo visto questa puntata molto concentrata sul tema del digitale, sul tema dell'e-commerce, sul tema della vendita, della produzione, realizzazione di prodotti attraverso il digitale. E si sta aprendo adesso presidente una stagione che gli anni scorsi era una stagione felicissima possiamo dire e speriamo ritorni in questo modo ovvero dicembre che è il mese del Natale. Sì, il mese del Natale delle grandi tradizioni che quest'anno purtroppo devono essere modificate da tutti noi. Ci siamo organizzati con la nostra vetrina, con le nostre aziende, abbiamo portato e postato sui nostri programmi tutto quello che il mondo dell'artigianato può ricordarci, la festività, la natalità e poi soprattutto la produzione nostra che è sempre stata il fulcro di queste grandi feste. Adesso noi abbiamo bisogno di tutti, quindi la mia raccomandazione ricordatevi dei vostri artigiani, ricordatevi delle vostre botteghe, delle nostre eccellenze e soprattutto ricordatevi che siamo e abbiamo bisogno di lavorare. Certo, infatti io faccio proprio riferimento a questa iniziativa portata avanti da Confartigianato Lombardia di Acquistiamo Locale, quindi di dare spazio anche proprio alle nostre imprese, alle nostre attività, noi come ha detto bene lo faremo anche con la vetrina delle imprese. Sicuramente, ma non solo avrete degli sconti particolari, avrete e troverete dall'altra parte una grande disponibilità, ma soprattutto riusciremo a fare quella rete che abbiamo sempre dimostrato che siamo capaci di fare e che porta il Made in Italy, l'Italia, ma soprattutto le nostre famiglie a questa grande festività. Ricordiamoci che siamo artigiani, il fulcro indispensabile per la società, quindi acquistate il vostro prodotto, acquistate quello che è stato sempre per voi la vita. Grazie. Perfetto, io la ringrazio veramente sempre anche di darsi questi messaggi positivi, diciamo in chiusura della nostra trasmissione, anche perché non anticipiamo niente, ma settimana prossima noi renderemo un pochino speciale Natale a Monza, con anche la nostra partecipazione, ma non anticipiamo troppo. Ma ora non anticipiamo. Ricordiamoci tutti che dobbiamo affrontare questo momento difficile con serenità e con dialogo. Grazie. Grazie Presidente e buonanotte. E anche questa sera vi abbiamo dato la possibilità di avere uno sguardo sul mondo delle imprese artigiane nel nostro territorio in Lombardia e sul momento che stiamo vivendo. E allora io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Come sempre vi ricordo l'appuntamento con una storia di artigiani venerdì prossimo alle 22.30 su Tele Lombardia. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.